I am walking down the street, think I'll get myself a treat. Je voudrais little spice, et monsieur what's your advice? Oh oui oui, I like that style, it don't take much to make that smile. Perché dividere ciò che è inseparabile? Rete fissa, mobile ed internet al forfait di soli 80 franchi al mese. Ovviamente.